buongiorno ragazzi benvenuti nel canale tecno alex 73 altro pacco altro unboxing da parte di amazon sembra un altra valigia la potuto giudare la finestra un po' di apero che è mezzo distrutto questo pacco telescopio telescopio semiprofessionale ricambi di lenti multipunzioni molti accessori al suo interno un po' di più un pahmone pahmone e per tu di istruzione pacco uno pacco uno pacco uno ma non eh sono 7000 7000 pezzi mamma mia penso che le leggo qua va bene guardiamo questo guarda capi di stall curie di stall ma sciacca altri pezzi supporto per smartphone il stall il stall sembra buono si usava per fare le riprese vieni a faccia sembra buono ci alluna sei gommini è veramente alto però però forse a sto giro ho mandato qualcosa di interessante il telescopio ci facciamo con il telescopio andremo a caccia di UFO ah le lenti vari filtri per le lenti e sono curiosissimo non ho mai visto come funziona il telescopio va bene va bene va bene va bene riesco a prendicere l'altro max lapter ma è scendente comunque allora per vedere per vedere la luna per vedere i pianeti e le costellazioni per vedere uccelli e animali nei boschi per il turismo e ad alte performance si può collegare il telefono in modo che con la fotocamera del telefono si vede quello che vede il telescopio va bene faremo una prova appena riuscirò a montare il tutto non so se porterò anche il video del montaggio ma mi sa che ci vorrà una settimana per montarlo tutto va bene prossimamente faremo questa cosa qua e poi vedremo cosa riusciamo a vedere proveremo a vedere se troviamo qualche UFO sulla luna sempre che questo riesce a vedere la luna perchè sai non si sa mai direi che stavolta Amazon ha iniziato a mandare roba seria va bene mi raccomando i pollicioni e noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti